Sì Giovanni, come hai ricordato tu, ci troviamo nella sala operativa della questura di Campobasso. Insieme a noi c'è il questore Giancarlo Conticchio, il Molise è passato in zona arancione, ma tutto il Basso Molise è zona rossa. Le attività di controllo vanno avanti in maniera incessante, pensate soltanto nel pomeriggio di sabato scorso. Ci sono state oltre 100 richieste, 100 segnalazioni. Allora signor questore, qual è l'attività di controllo? L'attività di controllo è alla vista di tutti. Noi qua in questa regione, già dal primo lockdown, abbiamo dato massima attenzione ai servizi di prevenzione. L'invito che faccio ai cittadini è quello comunque di rispettare le regole, perché rispettando le regole riusciamo a tenere quel distanziamento e riusciamo a tenere lontano questo virus. Uno dei temi caldi è quello degli assembramenti, ce ne sono stati diversi anche prima di passare nella zona arancio. Avete fatto degli interventi, avete elevato delle sanzioni? Sì, purtroppo sì. Mi spiace dire le sanzioni che le abbiamo fatte. Dobbiamo capire tutti quanti che questo è il momento di darci una regolata in senso positivo. Evitiamo gli assembramenti, evitiamo le feste private, evitiamo i locali e i circoli. Qui tramite Yupol, rinnovo l'invito ai cittadini a segnalarci Yupol, adesso prima di andare in onda del servizio è arrivata una segnalazione su Yupol, dove ci segnalano aggregazione incontrollata, giovani e anche, non solo giovani, di una certa età che festeggiano tranquillamente. Quello degli assembramenti è un dato a doppia lettura perché da una parte purtroppo si verificano questi fenomeni, ma dall'altra parte c'è molta sensibilità da parte dei cittadini che segnalano questi episodi stessi. Io ho apprezzato da subito in questo periodo di emergenza la sensibilità dei cittadini. Lo diceva lei prima, sabato ci sono arrivate centinaia di telefonate, vuol dire che il cittadino ci tiene alla sicurezza e noi facciamo il possibile per garantire la sicurezza sanitaria in questo momento.